Ciao a tutti, io sono Elisa Suriani, dell'Egambiente Toscana. Anche quest'anno siamo stati coinvolti con piacere nel progetto Energicamente, che ha visto protagoniste 22 classi appunto sul territorio della provincia di Firenze. Quest'anno il nostro lavoro nelle classi si è concentrato molto sull'attività pratica e manuale, quindi tanti laboratori, tanti forni solari da costruire, tante scatole materiali da reciclare, tanti disegni da fare, anche perché quest'anno siamo riusciti anche a unire energicamente alla campagna Mi Illumino di Meno, quindi è stata un'ulteriore opportunità per far liberare la fantasia dei nostri studenti e sinceramente anno dopo anno li vediamo sempre più preparati e sempre più vogliosi di imparare e anche i ragazzi che magari l'hanno già fatto, hanno già fatto il percorso alle elementari, li ritroviamo alle medie con ulteriori spunti e domande per poter proseguire il percorso insieme a loro, quindi siamo ancora una volta molto 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 soddisfatti di questo progetto.